Nuova puntata per la Cherel che riguarda il quartiere San Vito. I consiglieri che hanno sollevato la questione relativa alla legittimità dell'elezione della presidente Zarpellon non accettano le dichiarazioni del sindaco, vogliono sapere la verità sulla residenza al momento dell'insediamento. Il prerequisito fondamentale per ricoprire il ruolo di presidente è infatti quello di risiedere nel quartiere. Lui non ci ha mai risposto, anche sulla lettera e anche sull'intervista che ha rilasciato alla vostra rete ha detto solamente che all'epoca la signora Zappellon era elegibile. Noi vogliamo sapere su che documenti questo viene dichiarato in quanto la famosa lettera di nomina in sedia firmata dal sindaco datata 30 novembre 2015 dice che la residenza della signora Zappellon è via Costa 23 e che esita nel quartiere San Marco. Per i consiglieri inoltre non è stato seguito l'iter previsto dallo statuto e dal regolamento per eleggere il presidente. Dieci consiglieri su 13 erano di nuova nomina e al momento dell'insediamento la presidente avrebbe dovuto informare i consiglieri delle modalità di voto. Il regolamento comunale prevede per le elezioni del presidente del consiglio di quartiere e comunque per qualsiasi elezione dove sia si tratti di persone lo scrutinio segreto. Non prevede altre modalità. In questo caso non è stato fatto niente. La presidente ha detto allora siccome ci sono io mi eleggete tutti quanti a posto e amen. Quando ci siamo presentati durante le elezioni non avevamo in mano né il regolamento né sapevamo come sarebbe avvenuto questa elezione. La presidente ha assistito a ben due elezioni quindi poteva benissimo spiegarci come sarebbero avvenute queste elezioni. I consiglieri ora chiedono risposte al sindaco e al segretario generale del comune perché ricordano se c'è qualche atto irregolare potremmo pagarne tutti le conseguenze.